Signor Trapanese? Sì, sono io. Tribunale dei minori di Napoli. La chiamiamo per la sua richiesta di affido. Come l'ho detto al telefono, la bambina è down. La sua esperienza è qualcosa che ci ha sorpreso positivamente. Veramente tu e tua moglie sareste disposti a prendere Alba? Io non ho una moglie, sono lei. Ma tu che devi creare che stiamo a Svezia? Svezia, io sono un'avvocata. Ma tu devi essere orgogliosissimo di averlo detto. In Italia l'adozione non è possibile, punto. Ma l'affido finalmente sì. Profilo di Luca Trapanese ottimo. Stiamo cercando una famiglia, composta da due persone, una mamma e un papà. Che io non ci riesco, Luca. Lei mi deve dire quanti rifiuti è disposta ancora a far vivere ad Alba. Ci sono delle regole. E se queste regole fossero sbagliate? Possiamo provare una strada. Si tratta dell'affido temporaneo. Un mese. Noi dobbiamo costruire un pezzo alla volta. Fino a Marrone. L'affido è temporaneo, lo so. Ed è irrevocabile senza alcun obbligo di motivazione. Ma l'affetto no. No, l'affetto no. Tu non la puoi perdere questa battaglia. Alba è nata per te. Io sono nata per lei. Nuove sensazioni, giovani emozioni, si esprimono purissime. E io sono nata per te. No, l'affetto no. Romane. Amen. Yea se'ntwa.